Finalmente siamo arrivati a Fico, il parco da gustare e dopo aver lavorato in Europa, aver solcato un po' all'oceano andando negli Stati Uniti, finalmente lavoriamo anche in Italia nel parco dedicato al cibo Fico Italy. Petas ha contribuito a rendere bello questo parco del cibo proprio creando degli elementi scenograficamente belli che possono essere vissuti da tutte le persone che visiteranno il parco come la macina dell'olio che possiamo toccarla e girarla come un vigneto che si illumina. Che cosa ci aspettiamo noi creatori di queste meravigliose scenografie quando entrano gli ospiti qui in questo mondo? Ci aspettiamo sorpresa, ci aspettiamo divertimento ma anche che gli ospiti e i visitatori guardino con un po' con la testa all'insù gli elementi scenografici dall'albero a tutto quello che abbiamo creato insomma ecco.